Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e oggi sono qui per rispondere a una domanda che mi avete posto e che credo possa essere molto interessante perché è un buon punto di partenza per discutere un po' di filosofia della scienza proprio con cazzuola e martello. Quindi non aspettatevi cose complicate o articolate, però cerchiamo di mettere un po' di punti in ordine. La domanda è la seguente. Ma le teorie fisiche sono vere? O come facciamo a sapere se una teoria fisica sia vera o meno? Questa domanda nasconde naturalmente un fraintendimento profondo di cosa siano le teorie fisiche dovuto probabilmente a come la scienza ha scelto di raccontarsi negli ultimi cent'anni. Prima di rispondere, raccontare ad esempio la differenza tra induzione e deduzione e quale sia il vero ruolo delle evidenze sperimentali nella ricerca di teorie utili a descrivere il mondo permettetemi di ricordarvi che Spazi Attorcigliati è una rubrica settimanale. I video escono ogni mercoledì a luna e mezza. Per non perderveli vi consiglio di iscrivervi al canale. Trovate il bottone tipo qui sotto, non so se sarò specchiato. E siamo anche su Instagram, siamo anche su Telegram, siamo anche su Facebook, anche se quello lo usiamo poco. Quindi seguitemi da tutte le parti per non restare mai indietro. Riuscire a seguire lo sviluppo di Counterpoint, che è il fumetto a cui ho lavorato con Alessandro Carnevale o una serie di altre persone. Insomma, ne ho parlato nei luoghi e negli spazi dedicati. C'è un luogo e un tempo per ogni cosa, ma non ora. E le altre cose che faccio con Spazi Attorcigliati. Bene, finito il momento spam, possiamo entrare nel vivo della questione. Lo facciamo facendo come sempre un passo indietro. Perché l'unico modo per chiarire dei concetti che si sono attorcigliati, dove sannidano degli errori che non riusciamo a individuare ben bene, a districare dalla matassa, è fare un passo indietro. Cercare di ricostruire le cose. Quindi lavoriamo con un toy model dello sviluppo di una teoria scientifica. Quindi siamo a metà tra la fisica, la filosofia e la sociologia e cerchiamo di, non dire, sciocchezze. Immaginatevi di essere nella savana. Più o meno il 70.000 avanti Cristo o qualcosa del genere. Avete attraversato la rivoluzione cognitiva, siete capaci di pensiero complesso e iniziate a chiedervi come funzioni il mondo attorno a voi. Ad esempio, qualche fenomeno naturale come i fulmini. Il tempo va veloce, perché ci immaginiamo che voi abbiate già l'analisi e un sacco d'altre cose, una serie di strumenti matematici necessari poi a sviluppare una teoria fisica. Ma c'è un fenomeno naturale come, ad esempio, i fulmini, che non sapete spiegare, non capite bene come funzioni. Però notate che ogni giorno, a una certa ora, quando ci sono delle nuvole, il clima è abbastanza regolare, quindi comunque ogni volta che ci sono delle mega nuvole nere, a un certo punto casca un fulmine. E soprattutto notate una certa regolarità. Mi sembra che più lontano casca il fulmine, più tempo passa tra il momento in cui vedete il fulmine e il momento in cui vi arriva il tuono. Quindi fate una serie di osservazioni. Vedete, siete immersi nel mondo, gettati nel mondo, creature il cui cervello è nient'altro che il prodotto di milioni di anni di versioni evolutive. Ok? Quindi non siete fatti per sviluppare teorie fisiche. In natura niente è fatto per alcunché. È solo il prodotto di pressioni selettive. Quindi voi per qualche ragione avete sviluppato il pensiero astratto, vi aiuta a riprodurvi di più. E adesso potete farvi domande sul mondo. Potete cercare di elaborare modelli del mondo e lo fate. Iniziate a vedere questi fulmini, iniziate ad ascoltarli, iniziate ad ascoltare il tuono, iniziate a creare dei collegamenti e notate delle regolarità. Come dicevo nel video sulle simmetrie, se nel mondo non ci fossero regolarità, noi non potremmo fare scienza. Perché scienza è nient'altro che descrizione di regolarità del mondo. Cose ripetibili, cose che possiamo verificare, che altri possono verificare per noi tante e tante volte. Quindi isolare le cause, dedurre gli effetti e costruire dei modelli delle regolarità. Quindi voi osservate e osservate e osservate. Vedete delle cose che capitano sempre nello stesso modo. A quel punto voi fate una cosa che si chiama passo indottivo. Voi generalizzate ciò che state osservando. Vi dite, ok, questa roba succede sempre così e così e così e così e così. Quindi mi immagino che andrà sempre così. E la prossima volta che arriva una nuvola nera, voi vi dite, eh beh, le ultime cento volte è cascato un fulmine, io m'aspetto che caschi anche adesso. Guardate bene, non siete mai certi al cento per cento che questa cosa debba succedere. Questo è il drawback, è il lato negativo, se vogliamo, dell'induzione. C'è sempre una certa misura di rischio. Voi potete stimare una probabilità, voi potete fare una scommessa, è dire scommetto che andrà in questo modo, ma non potete mai esserne certi al cento per cento. Perché per essere certi al cento per cento di qualcosa dovete fare infiniti esperimenti su quel qualcosa per accertarvi che non vi sia un possibile rarissimo esito diverso. Ma voi non lo potete fare, perché siete immersi nella natura, non scegliete, non potete nemmeno immaginare di fare un milione, infinite misure, voi potete farne tante, cinque, dieci, cento, dicevamo un milione, ma mai infinite. E potrebbe esserci quell'evento bizzarro che accade una volta su centomila milioni di volte che vi frega, che fa sì che il vostro modello si rompa, eppure voi fate tante osservazioni e osservate sempre la stessa regolarità. A questo punto la generalizzate e scommettete sul fatto che esista una certa legge del mondo che fa sì che quella regolarità sia parte stessa della natura in cui esistete. Quindi scommettete sul fatto che quella roba non sia una coincidenza che si è ripetuta cento volte, ma una vera e propria legge di natura, una roba che succede, un rapporto causa-effetto traduzione alla presenza di un nuvolone nero e magari di una certa umidità nell'aria, la caduta di un fulmine dopo una certa quantità di tempo dall'apparizione della nuvola. Poi potete raffinare il vostro modello, osservare nuvole diverse, capire fulmini, però voi state facendo questo. Ancora più banalmente il sole. Voi ogni giorno osservate il sole sorgere ad est, e quindi vi dite caspita, l'ho visto sorgere ad est un giorno, vuol dire verso quella montagna, se siete qua. L'ho visto sorgere là un giorno, l'ho visto sorgere là due giorni, l'ho visto sorgere là tre giorni, un mese, un anno, cinque anni, dieci anni, poi l'aspettativa di vita non è granché lunga nella Salvana, quindi siete un anziano di venticinque anni e vi dite per tutta la vita ho visto il sole sorgere lì, dietro quella montagna, e allora mi ci gioco tutto, mi ci gioco quest'osso, secondo me il sole sorge lì sempre, e anche domani sorgerà lì, ma qui noi stiamo facendo un'induzione, ci stiamo prendendo un rischio, perché nessuno ci assicura al 100% che il sole sorgerà davvero da lì, eppure questo è l'unico modo che abbiamo per costruire modelli del mondo, quindi ricapitoliamo, noi osserviamo il mondo, osserviamo un certo numero finito di manifestazioni di una certa regolarità, e induciamo una legge, non la deduciamo, la induciamo, la diciamo, ok, facciamo che questa roba succeda sempre, e la trasformiamo in una legge, a quel punto, la legge viene sottoposta a verifiche sperimentali, quindi vado a cercare tutti quei luoghi, tutte quelle istanze, in cui la legge può essere sfatata, verificata, o quantomeno corroborata da altra evidenza, o disconfermata dalla realtà, che poi vince sempre. Quindi io ho il mio modellino, nato da certe osservazioni che si ripetono, che cerca di esprimere certe regolarità del mondo, e inizio a metterlo sotto il torchio della verifica sperimentale, vado a controllare se funzioni lì, e lì, e lì, e lì, e tutte le volte che funziona, io non lo sto dimostrando, non sto provando la verità del mio modello, sto solo aumentando il mio grado di credenza in un certo modello. L'unica cosa che posso sapere per certo è che un modello, o meglio, l'unica certezza che posso avere è quella sulla scorrettezza di un modello. Quando io ho un modello, e lo sottopongo alla prova sperimentale, il modello non funziona, io sono certo che sia falso, ma non posso mai essere certo che un modello sia vero al 100% e funzioni sempre. Ogni evidenza mi fa credere un po' di più in quel modello, ma me ne serverebbero infinite per crederci al 100% e affermare che quel modello è vero. Questo è molto diverso da quello che facciamo, ad esempio, in matematica. Una legge fisica è molto diversa da un teorema matematico, perché cosa facciamo in matematica? In matematica noi prendiamo certe ipotesi, ok, ipotesi 1, ipotesi 2, ipotesi 3, ipotesi 4, e deduciamo un teorema. Nella misura in cui tutti i passaggi logici della dimostrazione e della deduzione sono corretti, il teorema è vero, assunti quegli assiomi. Cambiando gli assiomi cambiano i teoremi, ma quelle cose sono vere. Abbiamo proposizioni vere in matematica, salvo mettere la possibilità di un errore di dimostrazione di cui nessuno si è accorto, ma diciamo che il teorema di Pitagora nella geometria oclidea è vero, punto. Le leggi fisiche non saranno mai vere nello stesso senso, non godranno mai dello stesso status da un punto di vista filosofico, perché in fisica le ipotesi non ci sono e anche ci fossero non sarebbero chiare, perché noi le osserviamo, non le abbiamo date, non le possiamo opporre noi perché stiamo cercando di descrivere il mondo. Quindi noi cerchiamo di inferire il contesto in cui lavoriamo, di indurlo dalle nostre osservazioni e poi deduciamo delle cose. Ma capite bene che il nostro punto di partenza fragile, legato al nostro generalizzare delle regolarità per fiducia, ok, o facendo una scommessa, è molto diverso da quello che facciamo in matematica. Ed è questa la ragione per cui anche una roba come il modello standard della fisica delle particelle che funziona benissimo, funziona benissimo infinite volte al giorno in tutti gli acceleratori deve continuare ad essere testato. E poi c'è un altro discorso, ovvero che ogni modello ha certi limiti di applicabilità. Banalmente la gravità di Newton è certamente un modello approssimato del mondo, perché noi sappiamo che a un livello più profondo esiste la relatività generale di Einstein che corregge le predizioni sperimentali della meccanica di Newton, della gravità di Newton. Ma questo non vuol dire che vada buttata via. Quando bisogna costruire un ponte ed è tutto irrilevante utilizzare la relatività generale, usiamo la gravità di Newton, usiamo la meccanica di Newton, perché la relatività generale ci complica tantissimo i conti. E lo stesso vale per la fisica classica e la meccanica quantistica. Quindi ci sono certe istanze, certe occasioni, certe situazioni in cui una teoria fisica è più utile delle teorie più profonde che abbiamo scoperto poi. Ci sono delle situazioni in cui è meglio ancora usare la meccanica di Newton rispetto alle teorie che abbiamo scoperto, che l'hanno superata, che l'hanno estese, che sono, in un certo senso, più vicine al mondo che cerchiamo di descrivere, o che quantomeno hanno un campo di applicazione più ampio. Quindi ci sono diversi discorsi da fare. Abbiamo discusso la genesi di una teoria scientifica come induzione. E Russell diceva di star molto attenti all'induzione. Ricordate la vecchia storia del tacchino induttivista. C'è un tacchino che ogni giorno riceve cibo dal padrone. Dopo 300 giorni si dice ah, il padrone mi darà cibo ogni giorno facendo un'induzione e proprio quel giorno al ringraziamento il tacchino viene accoppato, cotto nel forno e mangiato da una famiglia di pionieri americari. Quindi capite bene che l'induzione è pericolosa e può indursi in errore. Se così non fosse non avremmo bisogno degli esperimenti, non avremmo bisogno di continuare a sottoporre le nostre teorie a verifica sperimentale o meglio alla prova degli esperimenti perché una verifica non arriverà mai. E quindi abbiamo discusso la genesi come induzione, abbiamo discusso la nozione di modello del mondo che ne estrae alcune caratteristiche, cerca di descrivere rapporti a causa effetto alcuni fenomeni e abbiamo detto che alcuni modelli possono essere utili anche se ridotti rispetto a modelli più accurati, più profondi e più vasti. Ogni modello ha il suo campo di applicabilità e certe complessità computazionali. Ancora una volta, come qualche settimana fa quando parlavamo del sole, della terra e di quale dei due giri attorno all'altro, noi non dobbiamo immaginarci come delle creature che vivono nel vuoto e con cervelli infiniti, ma come delle creature che vivono in un mondo finito con dei cervelli finiti, ancora una volta, non fatti per alcunché semplici prodotti di pressioni evolutive che si sono propagate nelle epoche e nelle generazioni che devono saper fare i conti. Quindi a volte un modello meno preciso è più utile perché ci permette di fare i conti in modo molto più facile. Quindi il discorso è complicato e no, una teoria fisica non sarà mai e poi mai vera. A meno che non ci si immagini che esista qualche codice che sta sotto al mondo, qualche libro di istruzioni creato da chissà quale divinità antica e incazzata crudele vedendo come vanno le cose per costruire il mondo. Quindi in tal caso avremo accesso alle ipotesi del mondo e potremo dedurre dei teoremi ma finché nessuno trova questo libro di istruzioni nascosto non lo so dov'è che la gente non guarda magari in un generico libretto di istruzioni di un videoregistratore chi ha mai letto quei cosi magari lì ci sono le ipotesi dell'universo ben nascoste da qualunque occhio indiscreto però a meno che uno di voi non sia in grado di darmi il libro di ipotesi del mondo da cui dedurre dei teoremi non avremo mai chiarezza ci sarà mai chiarezza attorno alle ipotesi da cui dobbiamo partire attorno alla nostra possibilità di generalizzare e di indurre fenomeni che osserviamo con regolarità e quindi ci sarà sempre un certo grado di incertezza che può essere ridotto ma mai portato a zero attorno ai nostri modelli della fisica e questa è la ragione per cui è molto importante investire nei centri sperimentali vi ricordo che spazi attorcigliati come dicevo all'inizio è una rubrica settimanale saremo qui anche settimana prossima e siamo stati qui settimana scorsa ringrazio chi c'è stato in chat perché questi video li registriamo in diretta vi ringrazio per essere giunti fin qui ringrazio i tippers ringrazio i crononauti del gruppo telegram e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti